Non lo sappiamo, però è importante pensare a come delineare strategie, pratiche di libertà e anche strategie di liberazione. Visto che il tuo libro si intitola Verso, quindi una direzione, è verso una forma di negazione, verso un non luogo, non solo un altrove, ma sembra quasi una negazione del luogo, una negazione del corpo in questo senso. Quale movimento indicheresti tu o ti potrebbe sembrare di intravedere ecco verso queste pratiche di libertà e magari strategie di liberazione? E provo a risponderti nel senso che il non corpo si va verso una smaterializzazione della corporità. Bisogna in che senso? Che abbiamo un corpo che è vero, che è sempre stato in relazione con la tecnologia, noi siamo animali, sempre in relazione con la tecnica, ovviamente come mediazione tra noi e l'ambiente esterno, insomma, la natura. Però lo scatto che c'è stato con l'avvento proprio di internet, quella che ormai si chiama la quarta rivoluzione industriale, quindi siamo a livello di implicazione con la tecnologia tale, tale per cui si delinea quello che possiamo ben chiamare un cybercorpo. Qui ci viene in mente Matrix, ma ci viene in mente anche quel film che aveva fatto il secolo, Blade Run, il famoso Blade Run, eccetera, quella ambientazione. Quindi il non corpo è proprio questa, questa contaminazione, questo corpo che ormai è contaminato da tutta una serie di tecnologie bio, nanotecnologie che portano un cambiamento antropologico epocale che non si era mai visto nella storia. Talmente siamo addentro al processo che ci si rende poco conto del passaggio epocale, dello sviluppo antropogenetico in cui siamo arrivati. E questo non corpo è questa dimensione. La dimensione, ad esempio, della realtà virtuale, c'è una traduzione nello schermo, quindi in forma algoritmica, di quello che è la mia corporeità. Oppure, indossando tutta una serie di protesi con cui non siamo sempre più a contatto, riproduciamo e viviamo questa esperienza nel mondo virtuale. Ambienti proprio ricreati artificialmente in cui uno si immerge e vive. Ovviamente siamo solo agli albori di questa dimensione. Questo allenamento, questo incontro, questa dialettica, questa commistione continua, incessante, sempre più marcata, da qui in avanti produrrà inevitabilmente una totale smatterizzazione del corpo. Quindi ci sono poi scenari di ogni tipo che si possono delineare, però questa è la tendenza dominante. Siamo al di là di qualsiasi giudizio, un'analisi o una riflessione filosofica che parte dai dati, dall'osservazione. Soprattutto nel corpo degli adolescenti, con chi io e altri di voi che insegnano abbiamo a che fare. Poi c'è un'altra dimensione, quella della virtualità, con cui entrano sempre più in contatto, ma c'è anche quello delle nuove forme di relazione attraverso i social, quello che io chiamerei anti-social, nel senso che i social non hanno, a mio avviso, praticamente nulla, ma creano un'infinità di, come possiamo chiamarle, identità di connessione che purtroppo danno luogo a forme veramente di dissociazione negativo. Io direi dissociazione disumanizzante, in questo senso fa. Perché? Perché si va a esasperare quell'idea, che a mio avviso, ma non solo in me ovviamente, parte da Platone che guarda in modo negativo la corporità. C'è un'uce, un'idea di questo corpo che viene visto come la gabbia, la prigione dell'anima, quindi un inizio di una denigrazione del corpo, e anche del piano dell'immanenza, che passa attraverso quello che è la dottrina cristiana, il corpo con luogo di piacere, quindi del peccato, eccetera, eccetera, che vede, non vede l'ora, di finire questo cammino sulla terra per poi finalmente ricongiungersi, esatto, con E. E passa anche per una denigrazione del corpo, tu stai facendo la filosofia moderna, con quella che è la dicotomia che a cui da luogo è Cartesio, che è quella della cosa pensata, della cosa estesa. E quindi anche lì una sottomissione del corpo rispetto a pensieri, così come bolle, nell'universo. Io parto da questa posizione, che si rifà poi agli studi di Deleuze e De Terri, che dicono che ogni pensiero è partorito dal corpo. È il corpo che pensa. Cioè, se vogliamo, la mente è a un secondo livello, quindi noi siamo essenzialmente un corpo. E chi introduce il concetto di corpo per primo nella filosofia? Proprio il grande Schopenhauer. Schopenhauer è il primo che dà l'importanza, un peso ontologico alla dimensione corporea, con cui verrà ripresa l'amice che ribadirà l'essere fedeli alla terra. Tutto questo discorso per dir un po' per filosofiggiare, perché è bello. Perché è un piacere in sé. Un po' per rimarcare quelle che sono le matrici culturali, un po' della storia e della filosofia, che ci conducono alla critica della corporità. Cosa succede adesso? Due filoni si impongono. Che uno ha l'idea del postumano. Allora, la filosofia del postumano è molto interessante. Perché la filosofia del postumano ci dice come guardiamo a questa nuova dimensione, questa commistione, a questa smaterializzazione progressiva del corpo. Allora, forse le coordinate, che erano quelle dell'antropocentrisme umanista, non sono più valide per leggere la realtà dell'essere umano. Ma, come possiamo dire, l'oggetto proprio di riflessione, non è tanto il corpo dell'essere umano, l'essere umano in carne ed ossa, ma è proprio la lettura, cioè le coordinate culturali e paradigmatiche come si è guardato sino ad oggi all'essere umano. Quindi è interessante, perché ha getto un nuovo sguardo sul presente, un occhio rivolto al futuro, ma ha getto uno sguardo critico sul passato. Qual è il nostro passato? Quello poi dei colonialisti, come talmente, della cultura occidentale maschilista che si è imposta nei secoli. Invece la deriva, che io invece critico in negativo, transumanista, per chi diceva questo discorso del corpo, proprio quello, cioè l'idea, o se vogliamo l'ideologia, di potenziare all'ennesima potenza il corpo tecnologico, per dire che cosa? Che il corpo è un qualcosa che si deve adeguare alla macchina. Cioè è un concetto obsoleto, è una struttura ormai obsoleta e bisogna, per forza di cose, adeguarsi al macchinico, alla nuova dimensione. Il transumanismo scade in che cosa? In visioni futurologiche, che cosa determina? Un'ideologia che guarda, quindi, ha un'idea di annientare, uno, la mortalità del corpo, e quindi il senso, e quindi il desiderio della corporità. Due, di annullare, zerare qualsiasi forma di malattia e di dolore, e quindi, diciamo, saremo impossibilitate di avere una traccia, quindi, sulla nostra corporità, una ferita della nostra esistenza, e, dall'altro lato, di, appunto, di quasi arrivare a questo ideale di essere una stringa di informazioni persa nell'universo. A mio avviso, questa modalità di vedere, di vivere la corporità, invece, collima molto bene con quello che è l'ideologia liberista, non liberista, ovvero sia quello dello sfruttamento, in senso di un'efficienza esasperata e disasperante della propria corporità, e, di punto di non ritorno, a livello di perfezionamento estetico, e di, appunto, ripeto, smaterializzazione, in virtù, proprio, di un potenziamento illimitato della sola facoltà mentale. Allora, diciamo, questa è la dimensione, il verso non corpo, quindi, totalmente negativo. Quindi, cosa facciamo? riprendiamo la corporità, il primitivismo? No, questo forse non è più possibile, perché noi viviamo in relazione con la tecnologia, ma come ripensare il rapporto del corpo con le tecnologie? Cioè, riproduciamo, ad esempio, nel rapporto uomo-macchina, la stessa dimensione alienante, la stessa relazione alienante, per cui riproduciamo i rapporti umani tra le persone, come sono quelli di sfruttamento di uomo su uomo, del capitalismo, del capitalismo, nel nuore formale capitalismo, o ripensiamo, partendo dal rapporto con le macchine, la nostra contaminazione con il tecnologico, una dimensione diversa, più egualitaria, dove vi è una distribuzione del potere, e vi ritorno a poco, una distribuzione del potere tra uomo e macchina. che si lasse, qui si lasse, buona, di qui si lasse, Grazie a tutti